Io stavo servendo una cliente e ho sentito frugare in questa zona qui un pochino più nascosta e quindi ho alzato le antenne perché non è la prima volta, questo signore era la terza volta che provava, anzi che ci rubava gli occhiali. È entrato in negozio ed ha portato via sei occhiali, un furto messo a segno con una tecnica ben affinata. È un successo in viale Michelangelo proprio davanti ai giardini del Porcinai. Ad inseguirlo di corsa senza mollarlo mai, una commessa da viale Michelangelo ai bastioni sino all'anfiteatro, il ladro sentendosi braccato, anche tentato di nascondersi dietro ad un cassonetto ed infine ha gettato la refurtiva. L'ho inseguito perché non ci ho visto più e quindi ormai conosco le dinamiche, quindi immaginavo di poter riuscire a trovarlo. È andata bene, non pensavo che riuscissimo poi nell'intento anche dell'arresto. La defurtiva è stata recuperata da un passante, sul posto anche la polizia municipale che come in una staffetta lo ha rincorso fino a via 25 aprile, dove il giovane, un ventenne retino ma di origini sudamericane, è stato bloccato. Ha trovato la collaborazione di tutti i cittadini e quindi si è entrato dentro il cinema Eden, era alle strette e si è gettato dalle mura. Al momento dell'arresto ha reagito con una gomitata ad un agente provocandogli la frattura di tre costole. L'arresto è stato convalidato ed è scattata la custodia cautelare in carcere nella zona. Spesso teatro di episodi di microcriminalità e degrado in attesa dei lavori di riqualificazione. Da circa un mese ha preso avvio un servizio di vigilanza privata. Io non so che cos'è che si può fare però la situazione è veramente veramente drammatica. Noi siamo esasperati, il mio gesto è stato proprio di esasperazione chiaramente perché la situazione sembrava leggermente migliorata ma evidentemente no. Questi fatti accadono quotidianamente.